Il desiderio di parlarti. Centro spirituale Frattocche, attraverso Wanda, 2 novembre 2008, a cura DVB. Mi rendo conto di averti sconvolto, ma era grande il desiderio di parlarti. Il mio consigliere, forse è l'angelo custode della chiesa, mi ha detto che presto mi lascerà e al suo posto verrà un altro. Forse sono io che devo cambiare. Ora la mia vita si sta svolgendo al meglio. Forse ci sarà un cambiamento anche per me. Pensi, sarai meglio? Io sto bene, mi sento sereno e non ho niente di cui lamentarmi. Mi domando soltanto quanti cambiamenti dovrò ancora fare. Sarà un progresso? Vedremo. Non ti nascondo che mi dispiace cambiare consigliere, perché mi trovavo molto bene con lui. Abbiamo aperto molti discorsi e il più delle volte ci trovavamo d'accordo nel parlare della misteriosa vita dell'universo. Io mi appassionavo e mi affascinava pensare a quanto tutto sia misterioso. Se uno si mette a pensare, e per me è ancora così, ero e rimango un appassionato. E questa è la vita spirituale di cui tu mi parlavi? Allora sono un essere spirituale se mi convinco di esserlo diventato? Penso che ci saranno parecchi cambiamenti, almeno così sento dire. Ho sentito la tua vibrazione forte che si è incontrata con la mia. È stato un incontro scabroso, perché tu ti senti male. Tieni sempre vicino a te G, ma anche D. Solo loro in questo momento ti possono aiutare. Cerca sempre di essere serena e non pensare a me, che io me la cavo benissimo. Ti saluto, R.